Cominciano la gente ad ammazzarsi, aziende che chiudono, città che si svuotano, continuiamo a aprire supermercati fatti da multinazionali che vengono lì, fatti Europa-America per dire venite il libero mercato, il libero mercato signori è il libero mercato. E allora dov'è l'unione? Cos'è l'unione? La solidarietà? Dov'è? La Grecia si poteva salvare, era il 2% del PIL, non era nulla per l'Europa unita. Ecco perché lui si alza e ha fatto benissimo a voltare le spalle all'ino della gioia, perché partiamo già dall'ino della gioia che non è gioia più per nessuno. L'ino della gioia l'ha usato Italy per i compleanni, Mao l'ha usato Smith in Rhodesia per l'apartheid, l'hanno usato i più grandi killer della storia, l'inno della gioia. Qui bisogna sedersi, ripensare in che mondo vogliamo vivere. Il movimento non è un partito politico, è una visione di mondo che non appartiene più alla crescita, al lavoro. Io voglio una famiglia.